La società romana. Durante il periodo della Repubblica la società romana era divisa nei classi, i patrizi e i plebei. I patrizi discendevano dai fondatori della città, erano ricchi, possedevano terre e ricoprivano cariche pubbliche importanti e facevano parte del Senato. La maggior parte della popolazione era costituita da plebei, contadini, artigiani, mercanti e pastori. Erano uomini liberi, ma non ricchi, avevano pochi diritti, ma molti doveri, come quello di andare in guerra tra un momento e l'altro. A volte i plebei diventavano clienti dei patrizi, in cambio di protezione e denaro. Aiutavano anche le famiglie nobili. Infine c'erano gli schiavi. Di solito prigionieri di guerra lavoravano come contadini, operai o nelle miniere. Liberati dal proprio padrone diventavano liberi.